Ciao lettrici e lettori, bentornati e bentornate su Miss Fiction Books io sono Tiffany e oggi parliamo di Saggini Queer è un video che ovviamente doveva uscire per il Pride Month lo sto registrando il 10 luglio perfetto, just in time ma ovviamente giugno è stato un mese un po' incomprensibile non so se avete già visto il mio video, quello dove vi racconto un pochino cosa è successo e quindi insomma vi rimando a quello nel caso siate curiosi e invece ci troviamo qua a parlarvi di saggi che parlano di tematiche queer tematiche che riguardano davvero tantissimi aspetti tantissimi orientamenti, tantissime questioni di identità di genere ma anche tanti campi diversi quindi insomma ero proprio curiosa di farvi un po' un recappino di questi saggi che secondo me sono estremamente preziosi che ho letto dall'ultimo anno all'ultimo mese insomma fino a maggio e giugno compresi quindi insomma bando alle ciance perché se no non finiamo più preparatevi a un video abbastanza lungo immagino e direi di iniziare fermi tutti, mi stavo dimenticando una cosa super importante ovvero che questo video sostiene Casa Rifugio Marcella ovvero tutti i proventi degli ads di questo video e se volete contribuire anche voi nell'infobox trovate tutti i link al progetto sostengono Casa Marcella che è un progetto secondo me estremamente necessario e anzi spero che sia solo l'inizio di tante case rifugio presenti in tutta Italia che accolgono persone trans non binary comunque in generale nello spettro dell'identità queer che hanno bisogno di aiuto in momenti di difficoltà che magari hanno situazioni familiari che non permettono loro di avere un posto dove abitare in alcuni momenti per poi ovviamente ripartire il rifugio dedicato a Marcella di Folco che ovviamente qua a Bologna è una figura imprescindibile per tantissimi aspetti insomma ha bisogno del nostro aiuto perché devono ristrutturare e rendere agibili tante parti insomma rendere la casa un posto davvero accogliente e davvero sicuro ecco da tutti i punti di vista e quindi niente andando alle ciance direi di partire ovviamente noi ci sentiamo giù nei commenti se avete bisogno di spiegazioni ulteriori se avete suggerimenti se qualcosa non vi è chiaro insomma ci tengo tantissimo a confrontarmi con voi su questi titoli perché io li ho adorati e sinceramente se avete dei dubbi, domande qualsiasi cosa ci sentiamo giù nei commenti il primissimo saggino che vi racconto si chiama Queer Gaze corpi, storie e genere della televisione arcobaleno di oggi fondamentalmente che è curato da Antonia Caruso ma in questo volume partecipano con i loro scritti ovviamente vabbè Antonia poi ci sono Antonia Anna Ferrante Federica Fabiani Mike Van Der Drift Lucia Tralli Irene De Togni Elisa Manici Valerio De Simone Stefano Guerrini Rocco e la postfazione è di Eugenia Fattori quindi parliamo di questo volume perché parla di rappresentazione dei media, dei corpi queer delle storie queer Queer Gaze infatti è un'antologia che raccoglie una serie di analisi riguardo alla rappresentazione soprattutto nelle serie tv di differenti ambiti LGBT e queer dal punto di vista queer anzi forse è meglio dire dallo sguardo queer che è un po' quello che si prefissa di fare questo volume ovviamente quello che viene chiamato queer gaze lo sguardo queer che ovviamente è ancora troppo marginalizzato e troppo poco tenuto conto nella maggioranza dei prodotti che vengono ancora tutt'oggi spinti maggiormente nelle tv nei grandi network e ovviamente nelle grandi piattaforme di streaming il volume affronta tramite tutta la raccolta di scritti temi differenti ma anche temi differenti dentro l'ambito LGBT quindi troviamo transessualità contributi legati al mondo lesbico contributi invece sulla bisessualità sul mondo gay sull'omofobia eccetera eccetera ed è abbastanza ricco devo dire si tocca praticamente tutte le cose ovviamente principali della comunità LGBT non tutte chiaramente perché non tutti i prodotti ovviamente danno spazio a tutte diciamo le rappresentazioni però l'idea ovviamente è quella di espandere questo volume quindi magari io spero che questo sia il primo di una serie in soldoni le produzioni stanno aumentando moltissimo la presenza quantomeno e lo spazio che viene concesso ovviamente o addirittura si occupano di narrazioni mirate al pubblico LGBT che raccontano loro storie effettivamente queer o storie LGBT pur tenendo però sempre contro ovviamente della prospettiva commerciale la domanda di fondo che ci possiamo fare leggendo anche questo volume è basta effettivamente inserire delle storie o dei personaggi LGBT per essere considerati queer o per considerare questi prodotti queer la peculiarità di questo testo e il motivo per cui a me questo saggio è piaciuto tantissimo è che non affronta solo da un punto di vista diciamo strettamente cinematografico e tecnico di rappresentazione magari in positivo in negativo ma indaga proprio la rappresentazione in uno spettro più ampio che è sempre politico perché appunto il modo in cui noi rappresentiamo le diverse comunità le diverse marginalità gli orientamenti le persone l'identità insomma un po' tutto ciò che fa parte dello spettro e della sfera queer ha a che fare con la visione che noi abbiamo e le differenti visioni che noi abbiamo della società e come ci rapportiamo con esse un tema ricorrente ad esempio il rapporto che si crea tra la narrazione del singolo quindi delle singole persone rappresentate dentro le storie e dall'altro lato quello delle comunità intese in senso ampio e collettivo plurale sicuramente variegato in bilico sempre tra desiderio di appartenenza forzata normalizzazione da un lato militanza dall'altro che vive ovviamente ogni comunità nella sua complessità perché nessuna comunità è monolitica e tutte le persone che la compongono la pensano allo stesso modo e dall'altro anche un po' il rapporto che si crea e si instaura spesso subordinato ovviamente alle dinamiche e le strutture etero a tutto questo si aggiunge secondo me una super potente e necessaria riflessione generale sul rapporto tra una comunità che è difficilmente incasellabile e inquadrabile in un unico blocco ovviamente le necessità che dall'altro lato hanno invece le grandi case di produzione le reti i servizi di streaming insomma tutta la parte che produce queste cose che le trasmette e che in qualche modo anche le pesca quando deve scegliere che prodotti mettere sui propri network e ovviamente il sistema capitalistico che queste rappresentano e come da un lato l'aumento della presenza di personaggi di storie queer o potremmo dire meglio LGBT sempre più spesso concida con il quasi totale abbandono dell'impegno politico o comunque il passaggio verso una neutralità molto normalizzante della differenza quella che insomma ora viene intesa anche come un'epoca molto prolifica e positiva dei prodotti di massa a tematica LGBT rispetto ovviamente al passato necessariamente quindi si trova a dover mediare tutte queste istanze e tutte queste tematiche estremamente importanti in qualche modo l'eliminazione della conflittualità all'interno di questi prodotti perché da un lato è riuscito a dare spazio anche ad altre storie meno stereotipate rispetto a quelle che esistevano o venivano perpetrate in passato quindi viste ora come positive in qualche modo ha prodotto però degli stereotipi a sua volta o comunque ha condannato senza farlo ovviamente consapevolmente ciò che è al di fuori di queste storie vi cito dall'impossibile acquirizzazione di Marianne di Federica Fabiani questo passaggio che io ho trovato estremamente on point ecco e parla di Tales of the City la dimensione collettiva non è mai stata veramente approfondita nei Tales la versione odierna in un momento di forti attacchi alle minoranze di genere etniche e sessuali avrebbe dovuto decisamente usare di più sporcarsi le mani rimestare nel torbido per fare emergere la forte conflittualità sociale che tutto affossa penso che rappresenti da un lato molti punti in comune all'interno dei differenti testi che parlano effettivamente di rappresentazione queer quindi se a voi interessa in generale la rappresentazione se è un tema che vi sta a cuore se guardate serie tv e volete averne un occhio ancora più lucido che non si metta però dal punto di vista del male gaze che è quello che domina ovviamente i prodotti cinematografici ma volete anche avere un punto di vista anche un po' provocatorio e non solo da parte della comunità e diciamo non accondiscendente perché sicuramente quello che troverete qua sono una serie di testi che non sono banali non sono scontati e colgono sia le positività che anche le negatività queer gaze fa assolutamente per voi oltre ad essere davvero super piacevole e molto molto fruibile quindi davvero l'accessibilità di questo volume è in dubbia bonus per questo volume ci sono anche tantissimi consigli anche disponibili in maniera free su youtube e io ve lo dico vi si allungherà terribilmente la lista di cose da vedere io qualcuna ve la magari metto giù nell'infobox almeno quelle free perché davvero io ho visto un sacco di cose giù nell'infobox vi linko anche un po' di consigli che ho trovato grazie ovviamente a queer gaze uno su tutti hair story che a me è piaciuto tantissimo e già che ci siamo vi metto anche control barra controlla che è una serie polacca bellissima che ho scoperto però grazie a De Strani anche loro ve li linko giù nell'infobox e anche questa è una narrazione bellissima e cinematograficamente una gioia per gli occhi quindi insomma vi linko un po' queste cosine qua ricordatevi queer gaze a cura di Antonia Caruso edito da Asterisk Edizioni altro libro che ovviamente non potevo perdermi visto che lo attendevo da quando è stato annunciato è queer di Maya Di Leo cioè la storia culturale della comunità LGBT e che è un titolo anche impegnativo per altri tra l'altro si chiama queer non si chiama LGBT e c'è un motivo molto preciso infatti il presupposto di questo volume è fondamentalmente che la stragrande maggioranza dei classici e della produzione diciamo accademica o comunque saggistica che riguarda la comunità omosessuale e più in generale la comunità LGBT sulle comunità in generale che fanno parte della sfera queer ovviamente sono di produzione anglosassone e la maggioranza di loro non è nemmeno stata tradotta in italiano e quindi l'operazione che fa De Leo è quella di cercare di ricostruire ovviamente dal punto di vista storiografico e non solo una serie di momenti che definiscono i passaggi più fondamentali della comunità LGBT e ancora di più quelli che definiscono la storia queer del continente europeo adesso però lo appoggio infatti secondo la tesi di De Leo la nostra concezione di genere sesso e orientamento sessuale si afferma con la contemporaneità perché prodotti culturali percorrendo momenti e situazioni storiche differenti adettandosi e trasformandosi grazie ad esso e in funzione di questi molto spesso o dipendentemente da questi è molto interessante osservare le ricostruzioni e le riflessioni legate alla comunità LGBT italiana e la sua evoluzione soprattutto in particolar modo quanto abbia inciso in periodo dei fasci appesi no non è quello dei fasci appesi è quello proprio dei fasci quindi insomma il ventennio è stato un momento che dal punto di vista sia di genere che di repressione delle devianze come venivano ovviamente classificate è stato un momento davvero incredibilmente spartiacque oltre al fatto di aver minato ovviamente la libertà di tutti gli italiani e le italiane ma soprattutto aver represso e modificato fortemente la concezione che noi abbiamo dei rapporti tra generi e nei rapporti con le comunità ovviamente queer all'immobilismo che c'è stato nel dopoguerra e anche la nuova repressione che oggi possiamo dire di vivere la censura insomma tutto ciò che succede invece oggi e come in prospettiva sono cose che ciclicamente ritornano infatti l'invisibilizzazione la silenziazione della comunità è in perfetta continuità con ciò che succedeva nel periodo fascista anche se ovviamente ora assume delle forme molto diverse ovviamente questo è anche un auspicio delle persone omotransfobiche ma anche se dagli anni 2000 possiamo dire che moltissime cose hanno iniziato a cambiare nel nostro paese negli ultimi vent'anni si sono ottenute alcune briciole molte cose hanno iniziato a trasformarsi molte cose hanno iniziato effettivamente a trasformarsi dalla rivendicazione dello spazio pubblico al ritorno alla discussione politica alla visibilità nei media però se ci pensiamo dal punto di vista legislativo è stato fatto pochissimo riguardo alle minoranze alla comunità alla protezione delle comunità tuttora siamo lì che discutiamo se approvare una legge talmente banale come quella ZAN però ovviamente anche questa maggiore rappresentazione questa trasformazione questo cambiamento questa visibilità da un lato è sempre condizionata è tutto delimitato e limitato alle forme che vengono decise invece da chi è fuori dalla comunità nei modi e negli spazi della polizia etero forse un altro dei concetti più interessanti che emerge da questo volume è l'uso politico che si fa del termine normalità o in generale del concetto di normalità perché vengono sempre accompagnati da una sorta di ricontestualizzazione storica come se la normalità venisse validata da elementi storici fissi e immutabili nel tempo cioè avete presente tutte quelle cose che vengono dette riguardo dobbiamo preservare salvare la cultura e queste sciocchezze per dirla gentilmente così che sembrano immutate nel tempo che siano fisse da 50 100 200 mille anni verità assolute che ci sembrano cristallizzate e immutabili nella nostra storia e nel modo in cui noi ci intendiamo nei rapporti tra le persone concetti come i ruoli di genere la famiglia la maternità la nazione la tradizione più z prossima volta vabbè sono tutti sottoposti fondamentalmente a moltissime mutazioni storiche culturali perché l'unica cosa veramente normale nella natura degli esseri umani è proprio quella di mutare quella di trasformarsi ad adattarsi infatti questi concetti in realtà acquisiscono sempre delle nuove forme culturali e continuamente vengono risignificate e infatti continuamente acquisiscono dei nuovi significati culturali ma ancora ci si appella a questi come se fossero fissi e mutati nel tempo genere sessualità orientamento sessuale subiscono esattamente le stesse genere rapporti tra generi identità sessuale orientamenti sessuale e sessualità in genere subiscono esattamente le stesse trasformazioni che subiscono tutte le altre questioni culturali e vengono risignificati a loro volta attraverso dei processi culturali collettivi insomma ci sono tante riflessioni davvero molto preziosi all'interno di questo libro e io l'ho trovato un saggio comunque estremamente piacevole forse ci sono dei difetti che non mi hanno fatto diciamo apprezzare appieno questo volume che sono forse la disomoigenità nel senso che in alcuni punti ci tiene moltissimo a chiarire dei significati in altri l'autrice li dà per scontati quando magari non lo sono ad esempio intersex viene spiegato molti altri termini magari più desueti o utilizzati molto meno all'interno della discussione no e questa cosa qui è strana e dall'altro lato a parte la disomogeneità che è anche lo spazio che occupano alcune parti storiche rispetto ad altre che è una cosa che è inevitabile molto spesso nel senso che è ovvio che le fonti storiche più indietro nel tempo soprattutto quelle della prima metà del novecento sono molto più corpose rispetto a tutta la parte che viene dedicata diciamo dagli anni ottanta in poi e questo un po' mi dispiace perché ovviamente i movimenti in Italia soprattutto dagli anni ottanta in poi hanno acquisito molta autorevolezza vabbè io poi nel senso sto a Bologna e pensare a tutto ciò che è successo dal giorno in cui si è insediato il cassero al MIT eccetera è da lì che è iniziata una vera storia ancora più concreta anche se prima chiaramente ci sono stati dei passaggi imprescindibili ecco forse diciamo questi sono i due difettucci che a me non hanno fatto proprio amare a pieno questo volume e dall'altro potremmo anche riflettere sul perché questo sia il primo saggio dedicato alla comunità queer edito da un grande editore cioè la sensazione di ritardo e inadeguatezza dell'editoria italiana grazie a questo volume e non metto in dubbio assolutamente il grandissimo lavoro di Maya De Leo perché ha fatto un ottimo lavoro assolutamente però come fa a essere accettabile che questo sia il primo saggio sul tema pubblicato da un grande editore in Italia e siamo nel 2021 cioè fa abbastanza ridere se non ci vogliamo piangere sopra e poi pensiamo che in realtà è l'espressione perfetta di come funzionano gli studi legati alla comunità lgbt e ai gender studies in Italia cioè che hanno iniziato da pochissimo avere riconoscimento e validazione all'interno dell'accademia mentre prima erano praticamente sempre esclusi e vabbè a parte questa nota a margine che è un commento totalmente personale diciamo che questo è estremamente utile se vogliamo ripercorrere le trasformazioni della storia lgbt nel continente europeo quindi sicuramente ci sono echi anche da oltreoceano ma soprattutto c'è ciò che succede qua in Europa che spesso è una necessità che io ho quando leggo saggio quando leggo insomma pareri eccetera che non abbiano a che fare con il rapporto o l'interdipendenza con la cultura americana quindi insomma anche questo segnatevelo raga è chiaro che io me le cerchi perché evidentemente io sono qua proprio a invocare tutte le forze negative dell'universo se no non parlerei di questo volume e infatti andiamo ad affrontare insieme comunismo queer di Federico Zappino sì sono una zecca e quindi il fatto che ci sia un libro con la parola comunismo qua sopra perché chiaramente la vostra Beniamina è una zecca comunista però partiamo dalla base prima che si generino qualsiasi conflitto di qualsiasi tipo anche dal punto di vista politico allora questo volume si chiama comunismo queer note per una sovversione dell'eterosessualità quindi questa non migliora la mia situazione e posizione nel parlarvi di questo volume in questo momento cioè prima che si generi qualsiasi conflitto che cosa significa sovvertire l'eterosessualità e perché è un processo necessario per ottenere un'efficace parità significa eliminare e abolire l'eterosessualità no no non c'entra niente questa cosa qua quindi con calma e questo è anche il saggio più complesso e meno accessibile di tutti di quelli di cui vi parlerò oggi però è anche forse quello che io ho amato di più ma era inevitabile comunque l'eterosessualità qui viene intesa come il modo di produzione fatto a produrre gli uomini e le donne in quanto tali e di conseguenza ovviamente tutte le forme di soggettivazione e di relazione inteso come gli uomini e le donne con definiti ruoli di genere e definiti ruoli sociali in modi che sono anche indistinguibili dalla diseguaglianza e dalla gerarchia e l'eteronormatività in qualche modo è indistinguibile dal concetto di diseguaglianza quando intendiamo l'eteronormatività come il modo di produzione gerarchico che assoggetta tutti gli altri tutto ciò che viene ritenuto normalizzante o normale all'interno della società secondo cui i rapporti tra i generi le produzioni di esse il binarismo il regime gerarchico del nucleo semplicemente di una relazione il nucleo familiare il nucleo della coppia sono intesi come la normalità e la base dalla quale partire per riprodurre tutti gli altri rapporti questo è un discorso complesso in quanto la diseguaglianza è essa stessa un rapporto tra dominante e dominato in questo caso chi subisce il potere e chi lo esercita nel sistema eteronormativo quindi nel sistema eterosessuale la diseguaglianza si produce nel momento stesso in cui l'eterosessualità e il modo di produrre dell'eterosessualità viene considerato la normalità e le modalità che vengono considerate minoritarie vengono assoggettate a quella dominante o represse la diseguaglianza ovviamente tra chi domina e chi subisce la dominanza tra chi opprime e chi subisce la sua oppressione ovviamente non si sviluppa ovviamente solo all'interno della sfera privata delle singole persone perché si traduce ovviamente sempre anche in quella pubblica e politica questo significa anzi questo comporta sarebbe meglio dire che la minoranza in questione o le minoranze in questione proprio perché le proprie modalità non vengono riconosciute come valide e i propri diritti non vengono garantiti avrà necessità di lottare per affermarsi e per autodeterminarsi agli occhi della società quindi sovvertire queste dinamiche e questo era un pippone necessario introduttivo se no non si capiva nulla di questo discorso comunque sovvertire l'eterosessualità non significa abolire l'eterosessualità e uccidere tutti gli etero non è assolutamente questo il tema ma sovvertire il modo in cui noi produciamo una disuguaglianza basata sull'assunto che il modo eterosessuale che produce tutta una serie di disuguaglianze e che produce tutta una serie di gerarchie all'interno dei generi e dei nuclei e di tutti i vari rapporti che si creano insomma sovvertire l'eterosessualità quindi significa sovvertire il modo in cui noi produciamo una disuguaglianza basata sull'assunto che l'eterosessualità è la normalità e la base di tutti i rapporti tra le persone un po' riprendendo anche il discorso secondo me di Monique Wittig in The Straight Mind e comunque in tutta la sua produzione dove chiaramente la distanza sta nel fatto che le persone eterosessuali pensano che quello sia il modo l'unico modo il modo di base il modo normale ok nel quale si stabiliscono generi relazioni e gerarchie e secondo Zappino il modo di produrre eterosessuale è addirittura precedente al modo di produrre capitalistico o il modo in cui si intende la produzione dal punto di vista capitalistico proprio perché storicamente la produzione delle differenze basate sul genere come abbiamo già visto non sono né neutre né innocenti aveva già stabilito la propria egemonia ben prima dell'avvento del capitale Zappino poi mette questa prospettiva di sovversione ovviamente in relazione con il comunismo e in quanto Zecca io ci terrei anche a specificare due cosine proprio come esattamente lo scopo del comunismo rivoluzionario che non consiste nell'eliminazione dei diciamo privilegi economici di questo di quella persona di questo di quel capitalista bensì nella sovversione di tutte le classi economiche e sociali così come sono intesi nel sistema capitalistico quindi di una società che riproduce continuamente disuguaglianze e squilibri al suo interno e quindi gerarchie di potere e quindi produce privilegi e disuguaglianze così ovviamente lo scopo della sovversione dell'eterosessualità inteso come lo intende Zappino non è chiaramente quello di scagliarsi contro o additare un eterosessuale rispetto a un altro uno buono uno non buono ecco cioè non è quello il sistema ma invita ovviamente le persone della comunità queer in generale tutte le persone che fanno parte anche della sfera eterosessuale a puntare a qualcosa di più ampio e soprattutto qualcosa di più trasversale allo stesso tempo ci tiene anche moltissimo a puntualizzare come lo sfruttamento e l'esclusione all'interno della società ovviamente capitalistica non hanno solo un carattere universale tale per cui la stragrande maggioranza assoluta delle persone è costretta a vendere la propria forza di lavoro al capitale a condizioni che non hanno ovviamente né deciso né discusso né hanno avuto la possibilità ovviamente di decidere insieme e che di conseguenza possono ovviamente anche determinare la loro esclusione ma diciamo tutte queste diseguaglianze che si producono hanno un carattere sia universale sia generale ma anche particolare quindi vanno anche considerate tutte le singole oppressioni parallele al capitalismo che lavorando in modo oppressivo parallelamente al sistema economico permettono al capitalismo di fiorire di affermarsi e di riprodursi continuamente peraltro aggiungo anche di dare l'illusione che sia l'unico sistema possibile nel caso ovviamente dell'oppressione di genere e sessuale la gente che compie questa oppressione l'eterosessualità quindi se l'anticapitalismo non mette in relazione l'eterosessualità o non la mette in discussione come produttrice di differenze assolutamente conformi alle necessità di valorizzazione del capitale l'anticapitalismo è monco è un discorso complessissimo e io mi ci sono infilata se avete abbandonato la nave un po' capisco ma abbiamo quasi finito quindi diciamo che secondo la tesi di Zappino fondamentalmente la necessità è di lottare contro il capitalismo a partire però dalle sue concause anziché dai suoi effetti più immediati e visibili io personalmente penso che siano due processi paralleli che vadano di pari passo lavorare su questi agenti paralleli come possono essere l'eteronormatività per come viene intesa il colonialismo il razzismo come è da un lato anche la misoginia eccetera eccetera insomma sono tutte con cause l'abilismo insomma sono tutte con cause che permettono al capitalismo di ferire ma dall'altro bisogna anche mettere in discussione il sistema economico ma questo è il mio pensiero ovviamente io vi riporto però ciò che è scritto qua dentro in maniera anche un po' sconclusionata il più accessibile possibile e secondo me questo è ciò che esprime proprio il concetto stesso di intersezionalità l'intersezionalità deve tenere conto di tutte queste con cause che sono di matrice economica sociale ovviamente di razza di etnia di genere di abilità classe ovviamente sono tutte con cause che contribuiscono insieme al capitalismo a creare disuguaglianze differenze marginalizzazioni e sfruttamento secondo Zappino ve lo leggo questo il conflitto agito da noi minoranze contro l'eterosessualità deve innervare anzitutto lo stesso conflitto di classe e io la trovo una cosa molto condivisibile perché altrimenti anche il discorso che si fa sul conflitto di classe che ovviamente continua a produrre disuguaglianze differenze e ovviamente a fomentare il capitale invece che le persone in qualche modo può influire anche sul conflitto di classe stesso perché se noi continuiamo ad escludere l'eteronormatività da questo discorso in qualche modo si produrranno delle gerarchie all'interno stesso del conflitto di classe quindi continueranno anche all'interno di questi movimenti come avviene ovviamente a sinistra tuttora a conferire a degli uomini eterosessuali bianchi cisgender eccetera eccetera il potere e saranno sempre loro a dirci cosa fare nelle maniere in cui loro ritengono giusto che sia fare quindi si riprodurranno semplicemente le ennesime gerarchie ultimissimo appunto poi giuro scappiamo sull'ultimo volume che vi volevo presentare oggi però insomma questo è davvero molto ampio come vedete è anche bello corposo è edito da Meltemi Edizioni casa editrice che io adoro perché pubblica solo cose belle comunque l'ultimo appunto che volevo fare su comunismo queer è proprio l'uso di queer invece che LGBT plus e che è ovviamente una scelta molto voluta perché Zappino definisce ma come tante persone critiche della comunità queer l'abbiamo visto quest'anno a Bologna con il pride con Rivolta pride che c'è stato Zappino definisce la comunità LGBT dominante quindi quella diciamo più istituzionalizzata come troppo bianchi troppo cisgender troppo abili e troppo impegnati a garantirsi il consenso della maggioranza delle persone eterosessuali e quindi troppo impegnati ad anteporre questa sorta di garanzia del consenso alla memoria collettiva del progetto sovversivo dei corpi trans non bianchi e poveri e ovviamente appellandosi anche agli amici di sinistra ricorda come anche la perdita molto spesso di memoria della storia queer porti anche a dimenticare o a perdere l'oppressione agita anche da compagni sinistra verso la comunità queer e l'oppressione la sistematica eliminazione agita anche sui corpi queer e quindi niente io ve lo consiglio un sacco cioè è forse quello che più di tutti oggi a me è rimasto profondamente nel cuore ma non perché perché sembra super trasgressivo eccetera ma dice un sacco di cose razionalmente necessarie secondo me da affrontare soprattutto dal punto di vista politico voi sapete io rimango una zecca la vostra zecca preferita e quindi voi mi sopportate nonostante tutto direi di passare all'ultimo volume che non ho in cartaceo perché costa una cifra esorbitante e quindi in questo caso passiamo a Ace What Asexuality Reveals About Desire Society and the Meaning of Sex di Angela Chen questo è un volume dedicato allo spettro della sessualità io ringrazio Elena che sicuramente ha provveduto tantissimo a farmelo leggere ma anche Antonia Caruso che citavo prima ovviamente in Queer Gaze che anche lei me l'ha suggerito tanto e quindi insomma grazie perché ovviamente non è ancora uscito in Italia questo è l'unico volume non presente in italiano di questo video però ci tenevo troppo a parlarvene perché indaga principalmente il rapporto che si ha con la sessualità e con l'attrazione sessuale partendo da un presupposto dall'assunto che quando questa manca o quando questa non è presente in maniera continuativa in maniera differente da come noi impariamo a conoscere il modo in cui ci si dovrebbe rapportare con la sessualità come si fa? come ci si relaziona a questa dinamica quando viviamo in una società che da un lato è ipersessualizzata e sessualizza estremamente i corpi soprattutto ovviamente delle donne e feticizza le minoranze e dall'altro invece nella necessità di continuare a lavorare per togliere la repressione sulla sessualità femminile in particolar modo o lo stigma che la sessualità femminile ancora oggi vive in Italia poi ne siamo più che consce e soprattutto come ci si rapporta con questa sorta di confusione interna che non trova spiegazioni perché è spiegare una mancanza fondamentalmente senza sapere di avere quella mancanza questa è la difficoltà o viene addirittura invisibilizzata totalmente dalla società l'autrice Angela Chen che avevo già letto in Femmine che è edito da Nero Edizioni Angela Chen usa questo mix tra storia personale quindi raccontando la sua esperienza personale ricerche e reportage giornalistici intervista un sacco di persone quindi racconta anche tantissime storie di persone all'interno dello spettro ACE fra un po' forse è una puntualizzazione al caso di farla ricerche e discussioni con esperti di diversi ambiti per scrivere tutto questo volume fondamentalmente questo secondo me conferisce ad ACE una cosa molto potente al di là del fatto che sia estremamente accessibile ovviamente se voi parlate inglese se non parlate inglese attenderemo la traduzione comunque conferisce ad ACE questo senso di vicinanza e di familiarità a tutte le persone che fanno parte dello spettro ma anche a chi ne sta fuori e vuole semplicemente capire alcune dinamiche gli dà proprio un senso di relatable di comprensione e dall'altro cerca anche un po' di fissare quei pochi punti che sono stati accademizzati e quindi sistematizzati fondamentalmente messi nero su bianco ecco quando parlo di spettro ACE è perché la sessualità viene intesa diciamo forse dalle poche persone che sanno vagamente o hanno sentito nominare a sessualità come persone che rifiutano totalmente il sesso quindi che sono sex repulsed o che non hanno e non hanno intenzione di avere relazioni con nessuno ma la sessualità viene chiamata proprio spettro perché ci sono diverse gradazioni e tra l'altro la sfera sessuale per le persone ACE spesso è distinta dalla sfera dell'orientamento sessuale e questo diciamo richiederebbe un video in sé comunque chiama appunto spettro perché le persone si relazionano sia dal punto di vista romantico che dal punto di vista sessuale in maniere differenti e non sempre univoche quindi c'è chi è sex repulse chi è sex favorable quindi chi è rifiuto al sesso categoricamente perché non è una propria necessità non è qualcosa che vuole vive o sente qualsiasi impulso dall'altro c'è invece la parte romantica quindi comunque essere aperti o aperte alla possibilità di avere delle relazioni con delle persone e questo può in qualche modo anche diciamo avvicinare o meno alla sfera sessuale dipende perché ovviamente lo spettro ACE è molto ampio comunque magari vi metto un po' di link giù nell'infobox per chi volesse avvicinarsi a questo ambito insomma molte persone infatti intendono l'essere ACE come essere fondamentalmente celibe altri pensano che significhi essere completamente antisesso e molto spesso anche un po' giudicanti di chi lo fa e invece l'obiettivo di Angela Chen è cercare di affrontare un po' tutte le varie sfumature che esistono proprio nell'ambito ACE per far capire anche alle persone che ne stanno completamente fuori quanto sia ampio e variegato e Chen esplora anche un altro punto secondo me fondamentale che è il rapporto tra femminismo e assessualità come si intersecano e come l'attenzione sulla liberazione sessuale quindi l'enfasi sempre maggiore sulla sex positivity abbia coinciso abbia coinciso quasi sempre con il fare più sesso avere molti partner e questo sia molto spesso stato collegato con l'essere più femminista nella mente di molte persone ovviamente partendo ovviamente dall'assunto che la sessualità femminile è sempre stata condizionata regolata giudicata e repressa quindi chiaramente il rapporto in questo caso è capire come ci si relaziona la persona assessuale a questo modo di intendere il femminismo e la sessualità che chiaramente è una visione distorta perché e qua mi inserisco io con la mia opinione personale che però diciamo che molto spesso si allinea anche a quella di Angela Chen è che la vera liberazione avviene unicamente nel momento in cui la nostra sessualità è quanto più vicina alle nostre sensazioni e quando maggiormente noi ci sentiamo allineati con i nostri desideri con le nostre sensazioni e ci esprimiamo nella maniera che ci rende più consapevoli e chiaramente più felici ci fa stare meglio quindi che sia moltissima con tantissimi partner che sia del tutto assente con nessuno l'importante è che ci faccia stare bene e che sia una decisione non condizionata che sia una decisione totalmente nostra ma ovviamente se mancano modelli e mancano spiegazioni che rendano possibile la comprensione di quanto sia complicato e complesso lo spettro della sessualità quindi nei casi dello spettro assessuale se manca del tutto la consapevolezza che possa essere variabile differente o mancare diciamo la libido e in generale l'attrazione sessuale è difficile sapere sarà impossibile interrogarsi sul rapporto che abbiamo con la sessualità cioè ricordo nuovamente ovviamente essere assessuale non significa essere contro la sessualità in toto né ogni persona esperimenta un'unica forma di attrazione di rapporto con il desiderio lo spettro permette proprio questo cioè di avere un approccio lo spettro rappresenta proprio questo quindi avere un approccio alla sessualità che non sia univoco per tutte le persone anche legato alla comunità LGBT plus molto spesso le persone ace vivono questa sorta di rapporto condizionato con la comunità la queerness legata allo spettro ace non viene sempre validata o riconosciuta anzi molto spesso viene esclusa in particolar modo per chi è etero romantico e magari in un momento sta vivendo un rapporto con una persona del genere opposto ma è bene ricordare che la sessualità rimane uno spazio ben delineato al di fuori della norma eterosessuale e questo conferisce alle persone ace una validazione incredibile all'interno della comunità LGBT parere personale che spero sia anche condivisibile citando un'intervista di Angela Chen vi leggo l'ultima frase che è comprendere la sessualità è utile per chiunque anche se non si è nello spettro ace nello stesso modo in cui comprendere la queerness può ampliare la comprensione della sessualità anche se non sei queer comprendere i diversi modelli di attrazione e l'obiettivo ace può aiutare tutti a guardare le proprie relazioni e interazioni in modo diverso spero che questo libro possa essere prezioso per chiunque lo legga questo è chiaramente secondo me un messaggio estremamente necessario quindi anche ace è un super volume che vi consiglio tantissimo e quindi niente siamo arrivati in fondo a questo video mi spiace un sacco che non sia uscito durante il pride month è stato un giugno complicato però spero che comunque vi sia piaciuto che tutti questi consigli di lettura vi abbiano in qualche modo ispirate ovviamente trovate tutti i riferimenti a questi libri giù e poi ovviamente se vogliamo supportare Casa Marcella insieme trovate il link per il crowdfunding potete contribuire anche con cifre minime che per loro saranno estremamente importanti e quindi forza a Casa Marcella trovate anche il mio link a Ko-fi il link al Meet che penso sia sempre importante da conoscere sostenere seguire tutte le varie attività direi che noi ci sentiamo giù nei commenti per qualsiasi cosa mi raccomando e poi per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao